Aveva 31 anni, era papà di una bambina piccolissima ed era un operatore sociosanitario Simone Gasparo, il sub morto ieri sera colto da un malore mentre si stava immergendo nello specchio d'acqua davanti alla pinetta di Barcola. L'allarme era stato dato dalla sua compagna che non vedendolo riemergere si era tuffata per salvarlo, aiutata da un militare quarantenne che sentito il suo urlo non ha esitato a tuffarsi a sua volta. Simone però aveva già perso i sensi e non è servito il massaggio cardiaco praticatogli per 20 minuti dal personale sanitario giunto nel frattempo, espirato sul posto. Come spesso succede, soprattutto in seguito ad una morte così improvvisa, i social diventano un luogo dove si raccolgono storie e testimonianze sulla figura di chi ci lascia, anche quelle di chi ha assistito, sgomento a quanto accaduto. Simone Gasparo era un ragazzo equilibrato, tranquillo e sensibile, affascinato dalla storia e dai misteri, come un moderno Indiana Jones sembrava andare a caccia di piccoli tesori con il metal detector, scovando gioielli, monete e cimeli. Ed è forse stata questa sua indole, quella dell'avventuriero, ad averlo spinto a scoprire quei mondi che ai più rimangono sconosciuti. Simone Gasparo infatti, come molti ragazzi triestini, oltre a praticare apnea subacquea, svolgeva anche attività speleologica.